un giorno la chiederemo di usare l'orchidea la medicina per l'anima, i libri, ma sapete tutto, l'orchidea storia e personaggi, 572 pagine di orchidee, tutto sulle orchidee, e questa qui è la collanina, questo è l'ultimo della collana, le orchidee la medicina per l'anima, questa è proprio l'orchidea la medicina per l'anima, sulle emozioni che ci danno le orchidee. Allora, la pianta di oggi è questa qui, che abbiamo da tanti anni come maxillaria e chinacea, vedete l'orchidea degli semi, con tantissimi piccoli fiorellini, però non trovo niente, ma io ce l'ho come maxillaria e chinacea, ma non so bene, il nome probabilmente non è giusto perché non lo trovo da nessuna parte, però c'è un sacco di maxillaria così piccole, lungate, c'è un sacco di varietà. e spesso, questo è uno delle tante che è come maxillaria e chinacea, ma probabilmente il nome non è corretto, va bene. Oggi volevo fare una piccola inchiesta, stiamo preparando questo libricino qui, sull'anima delle orchidee. Allora, ho tre domande, dovete rispondere, se vi sentite, a queste tre domande. Tu parli con le tue orchidee? La seconda domanda, entri in sintonia con le orchidee? Cioè hai una specie di comunicazione, non so come dire, che si entra in sintonia con le tue orchidee? Come ti sei appassionato le orchidee? Ecco, se mi rispondete a queste tre domande, perché stiamo facendo un libro proprio sull'anima delle orchidee, perché sono convinto che le orchidee hanno un'anima. Se è arrivato a questa conclusione qua, adesso faremo questo libricino qua, poi ve ne parlo, faremo qualche video su questo documento qua. Perché io sono convinto, perché è più di 50 anni che cerco di capire come mai uno che ha visto orchidee, oppure ho comprato orchidee per anni, magari come una pianta da arredamento, soprattutto le pollenopsis, poi quando sono fiorette le butto via, ne compro un'altra e così via. Poi a un certo punto, di colpo, succede qualcosa che diventa un appassionato di orchidee. Prima erano piante come tutte le altre, da quel momento lì, cos'è che succede? Che uno diventa un appassionato e la maggior parte della gente no, perché come vi ho già detto, nel 2008 sono state vendute, solo in Olanda, 291 milioni di piante di pollenopsis. Una cosa incredibile. La maggior parte di queste piante qua vanno in mano a gente comune che quando è fioretta la butto viene a comprare un'altra. Quelli che sono gli appassionati così, perché succede qualcosa? Ma cosa succede? Perché? Perché di colpo diventi l'appassionato di orchidee, che prima proprio, secondo me, perché c'è Roberto Pascolotto della Brianza che ha trovato una definizione bellissima, che dice forse perché oltre che vedere con gli occhi devi vedere anche con il cuore. Ed è una bellissima spiegazione. Ma poi in questi ultimi 50 anni, più di 50 anni che ci penso, ma ultimamente è successo un fatto che poi mi ha portato da altri fatti e da altri fatti così, sono arrivato alla conclusione che probabilmente quando ci si è appassione, perché oltre che vedere la parte materiale, vediamo che la parte immateriale, l'anima, e secondo me le orchidee hanno un'anima, e tutti quelli che ci parlano, che entrano in sintonia con le orchidee, secondo me sanno che hanno un'anima. Ecco, rispondertemi a queste tre domande. Grazie, a domani.